Sono partita molto fiduciosa, proprio dall'impatto che ho trovato nella pubblicità, che ho letto, mi ha subito ispirato, mi sono buttata e devo dire che sono rimasta veramente contenta. Ho fatto proprio una scelta veramente bella, era quello che cercavo. Cercavo qualcosa che non sia una semplice dieta, perché dopo con la semplice dieta, quando hai raggiunto il peso, dopo riprendi e riprendi tutto in un attimo. Quindi io cercavo qualcosa per imparare, per imparare a mangiare. E ci sono riuscita, perché mi sono resa conto proprio l'altro giorno, quando ho rifatto per fare il menù, che tutte le cose che sceglievo le avevo già in frigorifero. Quindi ho pensato, ma guarda te, ho fatto la spesa, sono già entrata nell'ottica del cambiamento. Mi è piaciuto tantissimo che qua mangio di tutto, dalla panna che non la mangiavo, dalle noccioline, dalle noci, perché comunque mi era sempre stato detto che la frutta secca è molto calorica e la panna è calorica. E invece qua io faccio di quelle colazioni stupende, anche questa mattina, panna e fragole e noccioline. È una roba divina. No, no, buonissimo. Proprio ieri ho fatto la torta al cioccolato, devo dire che è uscita benissimo e non resistevo, ce l'avevo là, non resistevo, ne ho anche mangiata, anche il pomeriggio la vedevo, la volevo, l'ho mangiata, ma buonissima. Ho fatto anche la crema di nocciole, buonissima anche quella per la colazione, veramente. Scoprire di poter mangiare anche i dolci è stato fantastico, perché non avrei mai immaginato di poter mangiare anche marmellata dentro la torta, farcire la torta con la marmellata. Devo dire che qua c'è un servizio straordinario, perché comunque si è seguiti, si può dire, giorno e notte, dalla mattina alla sera, perché se si dimentica qualcosa ti vieni subito ricordato. Stupendo, è un servizio fantastico, anche io ho avuto problemi, ho mandato una mail, mi ha subito usato la risposta, mi sono stata chiamata, subito ho risolto il problema. Consiglio questo percorso, lo consiglio a tutti, perché comunque chi più chi meno, tutti quanti abbiamo dei problemi, tutti quanti dobbiamo imparare un po' a mangiare, o per eccessivo peso o per malattie comunque bisogna saper mangiare un po'. Mettere cibi giusti assieme per evitare danni, perché comunque se mangi cose ti fanno male. Durante questo percorso, diciamo, in primis, penso di aver quasi imparato a fare la spesa. Poi ho capito che il sale fa male, molto male. Prima mangiavo poca carne, invece proteine fanno bene, mi sento più forte, diciamo. Io ho tolto il sale, diciamo, subito, dal giorno dopo ho tolto il sale. All'inizio, però, usando il limone, coprivo un po' e poi pian piano adesso non mi dà nessun problema, mi sono abituata, diciamo, nel giro di due o tre giorni, mi sono già abituata. E adesso neanche ci penso a mettere il sale. Limoni, tanti limoni. Prima non li prendevo mai, adesso sempre il sacchettino di limoni prendo. Senza sale si sente, devo dire, che si sente benissimo il gusto delle cose. E altrettanto anche senza lo zucchero si sente benissimo il gusto, il sapore delle cose. E una volta che lo senti, che senti il cambiamento, senti il sapore, non torni più indietro. Un bel percorso facile perché comunque non è stato difficile. Pensavo che fosse più impegnativo anche la spesa e invece non è stato così. E anche le ricettine semplici, veloci, veloci, creme, cremette veloci proprio. È molto importante anche la velocità perché, per esempio, col mio lavoro, anche la colazione non ho un orario fisso, diciamo. La faccio presto, molto presto, alle 5 e mezza di mattina. Quindi per me deve essere una cosa veloce da fare. Quindi anche la panna con le fragole, la crema di nocciole, è molto facile, veloce da fare. Io l'ho trovata proprio eccezionale perché pensavo subito la crema di nocciole, mamma mia, quando a farla. Poi ho guardato, in 10 minuti neanche la fai, 5 minuti la fai, è una cosa velocissima e gustosa. Il problema per me era la colazione al mattino e ho trovato invece che mangio di più, la colazione è più abbondante, sopporto tutto il lavoro del mattino, arrivo a casa che non ho bisogno di, che sto bene, ancora bene. La faccio in tempi brevi, perfetto. Di diverso ho fatto, diciamo, che ho svuotato l'armadio, ho tirato fuori i pantaloni di 2-3 anni fa, li ho messi su, andavano perfetti e così mi sono un po' esibita, anche con colori un po' così sgargianti, diciamo. Allora in questo percorso ho fatto cose che secondo me valgono tanto per la mia salute. In primis ho tolto lo zucchero, il sale, ho cercato delle cose biologiche, ho mangiato più carne, più proteine, ho mangiato più frutta secca che non mangiavo assolutamente perché con il fatto che mi dicevano che è molto calorica non mangiare, invece ne sto mangiando tantissima e fa bene. Ho bevuto tanta acqua in più di prima, bevo ancora adesso tanta acqua in più di prima, sto seguendo benissimo e mi sento meglio e penso che continuerò su questa fia. Nel giro di neanche due mesi ho perso 4,5 kg e un bel po' di centimetri in vita, cosce, e ho perso bene, sono contenta. Io sulla vita ho perso 8 cm e ho dovuto anche fare i buchi alle cinture, sulle cosce mi sembra che ho perso 4,5 cm e nei fianchi 5 cm. Scoprire di poter mangiare e poi pesarsi il giorno dopo e pesare meno, per me è stata una cosa che ho dovuto memorizzare un po' alla volta perché non ero abituata. Avevo sempre il timore di salire il mattino dopo perché avevo paura, mi sembrava di aver mangiato troppo il giorno prima e quindi dicevo tra di me non sono dimagrita, non sono dimagrita e poi salivo e vedevo la bilancia e dico mamma mia, era un divertimento poi dopo 2-3 giorni, non vedevo l'ora di salire sulla bilancia per vedere, è veramente una cosa che bisogna provare. Il mantenimento mi sto trovando molto bene, dico benissimo perché ho aggiunto le torte, ho aggiunto che l'ho fatta proprio col cioccolato, quindi è una cosa che va benissimo. Il pane, poi il salame anche, l'altra mattina ho fatto colazione pane e salame, è una cosa e sono rimasta uguale perché mio marito mi fa mangi pane e salame, vedrai domani. Assolutamente no, stesso peso. Io sono in mantenimento da due settimane circa. Il mantenimento diciamo che è una fase molto importante perché comunque per quello che penso io si va a stabilizzare un attimino la situazione in modo che impari come fare, come proseguire il percorso in modo da non avere più ricadute di peso, cioè salire ancora come se facevo sempre prima. Io in dimagrimento mi sono trovata bene perché comunque la differenza non è enorme, non c'è tantissima differenza tra il mantenimento e il dimagrimento, qualcosina ma poca roba.